La Fondazione Fortes rispondendo a una call della Società Internazionale del Terzo Settore, società scientifica che si occupa di ricerca, ha avuto l'opportunità di realizzare la decima conferenza per l'appunto di STR, cioè della Società Internazionale del Terzo Settore, affiancandola con un programma culturale che raccontasse l'Italia senza stereotipi, senza luoghi comuni, ma che invece sottolineasse la grande forza, la grande capacità di questo Paese di promuovere coesione sociale, innovazione sociale nei territori e nelle comunità e anche e soprattutto come sistema Paese. Quest'idea di affiancare alla parte scientifica, che è particolarmente ricca, ha consentito di far sì che Fortes potesse continuare nel ruolo che ha svolto fino adesso di luogo neutrale e non neutro, ma neutrale di sicuro, di scambio, di incontro e di confronto fra prospettive e punti di vista completamente diversi. Questo credo che sia un po' l'anima di Fortes e che in questo caso si è esplicata in modo molto chiaro, evidente, anche con grande soddisfazione di tutti coloro che hanno partecipato, sia alla conferenza, sia al programma culturale. Questo è un primo passo importante perché il confronto che abbiamo fatto nelle iniziative precedenti erano confronti e incontri prevalentemente di livello nazionale con qualche inserimento internazionale importante, adesso ci siamo spostati a un confronto quasi completamente di livello internazionale con qualche inserimento nazionale. È un po' questa la prospettiva e cercheremo di portarla avanti nel modo più intelligente e continuativo possibile.